gentili telespettatori buona giornata la ferragni ha una relazione con tommaso trussardi lo staff di chiara ferragni smentisce solo un incontro a un appuntamento di moda questa cosa si era già sentita in passato lui un bell'uomo stilista proprio nello stesso settore dove lavora la ferragni capite per una che pubblicizza borse e rossetti lo stilista ha un fascino superiore a chi lavora fuori dal settore no io ricordavo per esempio vi faccio un paragone che forse non c'entra molto ma io avevo un negozio io avevo un amico che aveva dei negozi di scarpe e le commesse stravedevano per questo mio amico perché era il proprietario dei negozi insomma per chi lavora nel settore della moda lo stilista è il massimo no poi un bell'uomo stilista per una che fa pubblicità e fotografie di borse e vestiti lo stilista è wow no ci siamo capiti no ecco quindi ovviamente il fascino di quest'uomo sarà indiscusso che ci sia stata c'è oggi forse al al centro del di questa forse finita relazione col marito ci sia questo tommaso trussardi molti lo hanno molti lo hanno accennato molti lo hanno supposto supposte no supposto quindi molti hanno detto sarà perché sai non va bene col marito e si pensa allo stilista no wow lo stilista trussardi e così arriva la replica alle voci a proposito di una relazione dell'influencer con l'imprenditore come causa della crisi coniugale con fedez poi si aprono mille ipotesi mille supposizioni a fedez ha scoperto che che c'è forse qualcosa allora anche lui se n'è andato con l'assistente a miami come dire a tutti stai comportando forse così lo faccio anche io beh queste poi sono tutte poi congetture dato che loro hanno impostato la loro carriera social sul mostrare la loro famiglia da mattina a sera tutto quello che si fa ovviamente in questa sorta di telenovela anche i ricchi piangono anche gli influencer piangono in questa telenovela social la più famosa telenovela social italiana hanno fatto poi anche i ferragni che praticamente è la stessa cosa però trasformate in modo televisivo questa specie di separazione fa parte della telenovela social è una messa in scena per sviare l'attenzione dei problemi giuridici dai tribunali o perché anche lui fedez quei tribunali va avanti e indietro col kodakons soprattutto quindi tutto questo è una messa in scena per per continuare la telenovela social o invece è vero è tutto vero e loro adesso vogliono comunque che diventi riservato però avendo reso pubblica tutta la loro vita la gente poi vuol sapere come va avanti sta telenovela dice ma hai detto tutto fino adesso anche a che ora va in bagno quando scendi col cane e adesso che c'è un problema così grosso tu chiudi gli schermi e non mi fai sapere qual è la verità la gente vuol sapere funziona così così dopo la rottura tra l'influencer e fedez la supposta rottura in molti si sono chiesti se alla base ci fosse una relazione tra la ferragni con un altro uomo chi i siti di gossip hanno fatto il nome di tommaso trussardi 40 anni bergamasco presidente dell'anomonima casa di moda ed ex marito di michelle unziker quindi capite l'uomo giovane bello affascinante con la stessa età stilista e poi che ha avuto anche una moglie la notissima famosissima bellissima michelle unziker capite che quest'uomo ha tutte le caratteristiche per poter affascinare la chiunque del genere femminile è anche una potente influencer chiara ferragni la bellissima potente influencer potrebbe quest'uomo ha tutte le caratteristiche per essere per essere un candidato no a tutte le caratteristiche età soldi fama successo azienda e anche l'ex marito della bellissima unziker quindi a tutto in regola giusto il primo a fare questa allusione è stato davide maggio a pomeriggio 5 da mirta merlino dice per me per quanto mi riguarda la ferragni c'è chi l'ha consolata per bene per bene dire consolata per bene insomma è un po è un po azzardato consolata per bene più indizi dice sai cos'è mirta io preferisco parlare quando gli indizi arrivano a tre per il momento sono due forse anche due e mezzo poi ha suggerito all'inviato del programma michele desi che per primo ha parlato con fedes dopo la rottura della moglie di cercare a milano in piazza della scala qui c'è l'omonimo ristorante di trussardi sapete che come molti dicono per giudicare una persona devi avere tre indizi uno due non sono sufficienti tre prove tre prove per dire quella persona ha detto ha fatto devi avere almeno tre prove e qui questo blogger di gossip eccetera eccetera dice devo avere almeno tre prove prima per dire con certezza io so che ne ho due due e mezzo mi manca la terza prova e poi lo posso dichiarare apertamente però l'ha già dichiarato alla fine no dice l'ha consolata per bene insomma dire l'ha consolata per bene è un po' un po' azzardata come cosa però bene dice che dopo la rottura con la unziker quest'uomo avrebbe frequentato Chiara Ferragni non ha visto una volta frequentato vuol dire che se uno è sposata e frequenta un altro vuol dire che di nascosto bene arrivederci a tutti e grazie